Oroscopo del giorno, mercoledì 1 gennaio 2020 Ariete Amore Il nuovo anno partirà con qualche piccola tensione di troppo, tuttavia riuscirete a superare brillantemente ogni incomprensione con la persona amata. Incontri infattivici in arrivo per molti single. Lavoro La giornata di oggi sarà tranquilla e regolare. Rimanete concentrati sui vostri obiettivi. Toro Amore Oggi la vostra dolce metà svolgerà un ruolo importante, quello di farvi superare le vostre paure. Non aspettate che gli altri decidano al posto vostro. I single faranno meglio a comportarsi per come sono veramente. Lavoro In arrivo buone opportunità lavorative per molti del segno. Questo inizio dell'anno può regalare molte sorprese. Gemelli Amore Siete sostenuti dall'affetto e dal calore delle persone che vi amano e non avrete paura a rischiare nel portare avanti una storia complicata. Prestate attenzione ai dettagli. I single dovranno fidarsi del loro istinto per capire con chi hanno a che fare. Lavoro Evitate condizionamenti in ambito professionale con l'arrivo del nuovo anno. Agite di testa vostra e con consapevolezza. Cancro Amore I nati del segno in amore non devono dare nulla per scontato. Anche se avete un rapporto che sembra andare alla grande, non perdete occasione di rinsaldare l'intesa. Novità per i single. Potrebbe essere il momento buono per innamorarsi. Lavoro Cominciate l'anno con vere prospettive per ottenere dei cambiamenti positivi. Anche se non è facile accettare i cambiamenti, dovete lasciarvi andare. Leone Amore Sarete troppo attenti alle vostre parole per mostrare ciò che volete veramente dalla persona amata. Non esagerate, ve ne potreste pentire. Se siete single, siate coraggiosi. Sarete stupiti e soddisfatti dei risultati. Lavoro Il nuovo anno partirà in maniera molto interessante per i nati del segno. Saranno tante le occasioni da prendere al volo. Vergine Amore Una discussione o un litigio oggi trasformano la vostra vita affettiva in modo inaspettato. Prendete il vostro tempo prima di arrivare a una decisione radicale. Inizio dell'anno ottimo per i single. Le idee sono più chiare e possono cominciare a progettare il futuro. Lavoro Le cose andranno sempre meglio e oggi potrete vedere le cose da un punto di vista ancora più ottimistico. Bilancia Amore Lasciatevi guidare dall'istinto del cuore e la fortuna sarà con voi. Se siete single non esitate a compiere maggiori sforzi per uscire e conoscere nuove persone. Chi ha un amore dovrà cercare di salvaguardarlo. Lavoro Alcune occasioni potrebbero sfuggire di mano, ma basterà riprendere il controllo della situazione per evitare il peggio. Scorpione Amore Inizio anno con il botto per molti del segno. Le coppie solide potranno decidere che è il momento giusto per accasarsi. I single che vorranno fare nuove conoscenze avranno molte chance a disposizione. Lavoro Dovrete fare attenzione a finire il lavoro in modo corretto. Oggi siete troppo distratti da chi vi circonda. Sagittario Amore Sarete allegri e rilassati. È tempo di porre l'attenzione su ciò che vi piace fare veramente. Resistete alla tentazione di appoggiarvi sul vostro partner. I single dovranno agire in modo più spontaneo per fare conquiste. Lavoro In ambito lavorativo sarà bene non strafare per evitare inconvenienti. Ad ogni modo oggi avrete una fortuna incredibile. Capricorno Amore Giove e Saturno porteranno esperienze di vita al Capricorno e i nativi del segno ne trarranno insegnamento. Le cose per i single oggi potrebbero andare meglio e porteranno un'amicizia con una persona speciale. Lavoro State giungendo a un punto di svolta. È il momento di portare a termine il lavoro che avete tralasciato. Acquario Amore Il primo giorno dell'anno aprirà le porte a un mondo nuovo per i nati del segno, che finalmente coroneranno i loro sogni d'amore. Grandi progetti per chi è in coppia, ma anche per i single le previsioni sono rosee. Sta a voi monitorarle per avere il meglio. Lavoro Nella sfera professionale potrete realizzare molte delle cose che desiderate solo se vi impegnate sul serio. Pesci Amore Oggi farete del vostro meglio per alleggerire le responsabilità del partner. Non mancherete anche di evidenziare il vostro fascino e mettervi al centro dell'attenzione. I single dovranno uscire dal loro guscio e conoscere nuove persone. Lavoro Le cose nel lavoro andranno molto meglio rispetto a prima. Proseguite per la strada intrapresa e raggiungerete il successo. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie 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 Grazie.